Sabato 14 ottobre presso l'Aula Magna del Seminario Viscovile si terrà un importante convegno di studio che metterà al centro la cura e l'evoluzione della cura per le persone adulte disabili e le loro famiglie. È un momento in cui vogliamo anche fare memoria dei 40 anni dalla costituzione del Centro Adulto Disabili Centro Accoglienza di Palazzo Valentini e dell'intuizione che ebbe allora Vittorina Gementi nell'attivare questo nuovo servizio. Sarà presente anche il Ministro Alessandro Locatelli, Ministro per le disabilità, con un proprio video intervento. Siamo molto felici di poter presentare a tutta la cittadinanza questo evento al quale ci sentiamo davvero tutti invitati.